Parco della Neapolis al via le visite notturne in memoria dell'architetto Calogero Rizzuto. Parco archeologico di Siracusa e loro è Villa del Tellaro. Nella persona della direttora di Interim, dottoressa Rita Insolia, comunica che nei giorni 18, 22 e 26 luglio 2020 e 2, 10, 11, 12, 13, 14, 19 e 23 agosto 2020 si effettueranno le aperture serali dell'area archeologica della Neapolis in memoria dell'architetto Calogero Rizzuto e della collaboratrice Silvana Ruggieri prematuramente scomparsi nei mesi scorsi. Le visite all'interno dell'area opportunamente illuminate si svolgeranno dalle 19.30 con ultimo ingresso alle 22.00. Intanto nasce Xenia Sicilian Hospitality Network, una voce compatta per l'accoglienza. Hanno deciso di fare squadra dopo l'emergenza per rilanciare l'economia di un intero settore. Sono gli operatori del comparto Hospitality Industry, ristoratori, cocktail bar, albergatori e operatori delle strutture ricettive che nel segno dell'accoglienza hanno fondato l'associazione siracusana Xenia Sicilian Hospitality Network che sarà presentata alla stampa lunedì mattina alle 10.30 nel Salone della Camera di Commercio di Siracusa. Si tratta di una iniziativa che vede l'intera filiera del turismo compatta come unico attore protagonista di un dialogo costruttivo con la politica da tenere vivo anche in futuro, tra gli obiettivi della valorizzazione del turismo e della imprenditoria locale. Grazie. Grazie.